Dopo questa estate nera per le donne, perché sono stati molti i femminicidi, le violenze, gli stupri, credo che si debba trattare questo fenomeno come un fenomeno strutturale, non legato all'emotività dei casi di cronaca, ma come un problema da affrontare in maniera molto seria tutti i giorni dell'anno. La parte penale è sicuramente importante, ancorché non sia sufficiente. Penso che su questo non bisogna pensare alle bandierine, non ci devono essere divisioni fra i partiti, serve agire insieme. Quel provvedimento di Giulia Bongioni noi l'abbiamo votato, però secondo noi è stato un errore non introdurre all'interno di quel provvedimento delle misure che andassero nella direzione della prevenzione, perché oggi ci sono donne che vengono tradite due volte. Prima dal compagno che diventa l'omicida e poi dallo Stato, perché anche le poche donne che trovano il coraggio, le condizioni per poter denunciare una violenza, poi immediatamente dopo quella denuncia diventano più vulnerabili e sono più sole. Grazie. 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 Grazie.